musica 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 chissà che cambi qualcosa chissà che purtroppo che gioco ho visto con i dati che la maggior parte dei vecchi che vota magari vota tutti i pd o 5 stelle si beh, passa il 5 stelle quasi sicuramente chi provi mettere una tassa chi provi a mettere un rompimento dei coglioni su quel traiettore guarda guarda, laia del versuro che fico in culo di maio che fico bo adesso vedi che fa una tassa su chi indossa tutta la fenda io voglio che visto che ora è sbagliato il muso per capire chi comanda visto che il veneto che ora è una sbagliata talmente fissa che c'è anche paura ahahahah vieni a votare se rimani da qua, ma il veneto diventa autonomo, indipendente, stato continuare io ho cercato di fare l'indipendenza o magari poi un voto non passa mia sai da che roba c'è si sente se può dopo un voto noi passa c'è c'è io tutto il veneto tutto il veneto oltre ai negri io ho casa in culo oh vorrei che è molto piccolo certo c'è dentro mi devi far cagare ahahah aspetta che oh oh c'è un diritto andare a votare ti non te vai a votare c'è un diritto e non te vai niente a votare l'unico diritto che è nel stadio ahahah e neanche a mia cugina teori è andato a votare non so niente ma guarda vergogna vergognatevi ho fatto messe ora di coami per andare a votare perchè no perchè i quattro comunisti del merda della sinistra del merda del suo mattarellum del cazzo che ti ha fatto io ho fatto anche questo accesso tronico della legge della merda del blindeo sulle tessere elettorale del busto del culo ah si è vero è vero e mi ha toccato a fare messe ora mi ha toccato a me mi ha toccato a perdere messe ora di tempo perchè i migliori comunisti è il cazzo no io ho messo su no la strica che si cava sulle buste elettorali se sei 80 anni che si vuole non è mai stata messa invece di fare votazione elettronica no che ora uno vota finchè se si che successe mi ha toccato a perdere messe ora mi ha toccato a perdere ma vaffanculo se vero è di cosa strappare la ma vaffanculo c'è molta gente che non so cazzo da madonna se no io ho paura che le schede elettorale è fuori ma droga effe manco le finestre scocciate con scocciate con la firma ma se è droga io ho perso la finestra io ho una finestra pararia con elettrica sbasta io ho perso la cosa che dopo metti il tiraccio tu porchi guarda sono parato io posso mi comandare cinque minuti basta cinque minuti cinque minuti tu devi dare se li mettere a posto bastaria uno che comandasse eh mi guarda vorrei che io canti di fuoco e fiamme si più paglia per tutti più mangime più erba primo straniero che vedo pisare per la strada taglio il luseo batto con un cacco e buttò fuori dal mare usiamo un poca del bari primo ladro che va a robare una cacca al supermercato e taglio le mani dopo vediamo se che altri roba ancora e ora casa plurifamiliare con ampia veranda basta sai che sei da portare ma è nati che mi ho fatto un grattaccello moderno l'ultima volta si e quel caso mi ha finito il lavoro gnu ma sei stupido e si ripeti i lavori che ti presentava lavori guarda che puoi sverginare guarda che ti vennerà strana idea che ti spunta il ponte no? cioè non stai neanche pensando di fare sicuramente no no te lo dico fare esperienza questo è un lavoro che ti toglie bene per lungo poi sennò che sei edificio uffici sti uffici di stima? no 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 invece c'è paio te fai l'ufficio a stima todio che? si si fai stima dai dai si no? anche se te che se quinta se compiti parla del lavoro d'ora e mezza porco boi perchè mi vedo a ruspa morsi? perchè sei l'immigrato che... guarda questa... oh a me ruspa perchè rispetta l'area di sviluppo cosa sei che facete? guida il cantiere parla con... cesso mastro cavallare contrassegnata e ora dai preparare carichere la ruspa sul carreon dai buttami via questo... questo cesso di gancio tira su oh la a te che mi sento meglio oh la tu non sei scherzo io vado a dire booo in te ah mi trovo a dare a punto di saldatura ma fai una volta che c'era se io sdraio qui di plastica se la sento a mia nonna un'ora prima poi se aveva sdraia se avevo solitamente sentito e tu partì un tocco ma cosa sarei io a fare? ahahah non ti rivedere con me a bett ma non è che vengo qui c'è un mincino ma non è che vengo c'è un mincino o c'è? no no non è che non ti indosso a parte fina dove c'è i satei e mi pare che ha messo a parte l'altra dove c'è i braccioli e ora se ha sdraia se ha mosso leggermente che ha spostato leggermente il peso si tira strrrm partire che ha partito io il tocco altri chiedere come gli idioti hai non ho visto il mio sento rapattato sui strai io saremmo con i suoi campi ma se mi mette le masse in drivo io vengo con le gambe un po' alto si anche questo notico più profondo con il suo sabio magari un desviensi cento euro oh no no questo è fuori orcio la macchina orcio dio questo si eh devo dire orco e anche vabbè e ora mi scavo una scanta mhm e dopo riportare il video una scanta e niente dopo quando si prendono i pannelli d'acciaieria eeeh ti do il camion e dai io puoi scavare mi senti a molestare i carichi si ecco erano sempre no ti metti in basso non cazzo fatevi mai per quella gruetta finora continuare a scavare o no no però sta benata qua la fasso un altro 90% quanti metri cubi che c'è 6 e 6 l'ombrico completamente 25 secondi con l'escavatore no lo disinati in patagonia non lo sai mia legneria e sono andato a sageri oh maledio non è che ti vuoi leggerli a capo di segno tutto si ha compreso tutto l'analisi istantanea aspetta che pardo te l'ha fatto metto a parte 4 no ma è bello sai che mi pareva tutto tutto quanto tu vuoi che era segnato speriamo che qua ruspa riesce a caricarli perchè sennò bisogna prendere su serie si mi dai simboli qua ruspa aspetta che pardo oh potrò accalati al caso energy mettete in una maniera un po' più larga si ah si no ferma mi metto qua in me oh boh ho il il capomastro ho il capomastro ho il capomastro non lo scriverai a parkour 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 aspetta che guardo aspetta che metto su io non lo vedo dove cazzo se e roba bene energy intervettore a terra si e mi voto i tubi prima che lo incue ha no non è stato niente strano pensavo è stato qualcosa non è stato un cavolo si ma prenderai prima la roba che viene prima no? si ma però che ho p***o di quanto ma no ehi quattro tu via perchè non ti tolta io però ca puttana che cazzo fai stai cavati che cazzo sei anche io vedevo tremare un cavolo io ti ho spostato la sponda dove siete andato? a che rivenditore siete andato? città dove città? si penso dove cazzo sei non mi ricordo metti i trasferciti direttamente no perchè i marini non ti comprendi che non ho visto che non ho visto no no non ho visto proprio se ti guardi in capo no adesso mi incazzo appunto per quello si che non ho toccato a a a a dove sei cazzo che non ho neanche visti allora ma tonna buttana se non sei noi sei bancai noi sei bancai mi ti viene fuori da un'altra parte schifo mondo ladro no sei città tanta pazienza tanta pazienza il nostro signore sai quanto che non sentire senza pazienza dove cazzo sei ah vai figa gelato credo vada 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 qua sabbia beh se no scarico quello che ho qua dopo di che l'ultimo l'ultimo lo prendo io vada parte sinistra dentro sponde buona insomma che mi senti di ascoltare il suo cagare cazzo sei tutto il bestie che ha tirato si senti quanto te fai a cazzare la gente di no ma come si fa ad essere così in triosi chi si la roba si qua non la vedi che cazzo mi ha i tubi quei i tubi grandi puoi mettere un tubo e cemento solo un scaffale se no crolla anche il pavimento io caro devo passare il scaffale tutto non è che ho fatto caso mica eri tu mi perdeva non è che notai proprio eh signore pietà signore pietà adesso fai anche il finto santo adesso quanta terra tuttulta? 25 riempite rimorche 25 mila metri eh vinticinque 25 metri cubi e basta no 25 mila 25 mila metri cubi che rimorche voi? vinticante 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 rimorche del genere una nave, una nave container una nave crociera a costa con fuori che mi fa un pipo ma vaffanculo questi sono i mini scleri di marco che vengono a caso quando ci sono dei momenti di silenzio vinticinca caputare il tubo no eccola ma era anche sotto sora che non eh a morte ha avuto adesso allora quattro tubi di scarico si qui grossi qui di cemento ha buon avevo messo tre modulo fogna ok quattro modulo fogna si 50 significa baena spaziale tanto è che affogna guarda che se è meglio che non si infugniamo chi è che se qua che alza mi l'alza bandiera è meglio che avere l'alzheimer si carico agganciato quattro tubi ecco ma che fa il buron bene dai tre oh dio cosa hai visto ma 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 perché no ma questo ma sto ma se si ti spiego uso appunto un casino a madonna no praticamente avevo unganciato rimorchio e avevo aperto la rampa ero sceso ma metti qui scendo vedi il cambio a rimorchio che si incastra e che si baga tutto e adesso con i pristina in sede mi tocca di tornare là madonna dei furgon sui da merda prova di un meravigliere balde e se ti andava sento tanto è ora per stare su quella metà strada e adesso andato coso mi sento a pensare mia che mi si è scansato e che aveva mio frate una bella una bella piramide che mi aveva fatto un bel mucchito ma che perfetto eh no 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 ma che ti ma diavolo che anche se quattro piloni ti dico che hai messo dentro e tu fuori ma che c'è il cascai che avevo detto appena adesso non hai visto che c'è il cascai ritorno alle origini con i piloni arancioni il signore la mia ma ma dai qua capomastro desliga il carico guarda mi fa un caso la mattina a sera no 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 perché stai arrivando a verde quasi se è un caso prima da me non so si ma è fatta di tutti qui se devi pagare 2 ma non le ragazzi ma ti riesci io che pagari da altri o col conto corrente ultimo ma non le ragazzi ma che problema c'ha Sì, non so Ah, Dio caro, neanche una avevo visto in sera, neanche una Cama, figa che te fai roba col cuio Che tutto perfetto, no? Che sto coso qua non si ingancia Ma che tutto perfetto Sì Perfetto, sono riuscito a toccare Vedi ti mi fu la casì Ma Dio caro, ma cosa dici tu che serve? l'ho già preso, non li avevo visti ah si hai coperto i due? si, hai coperto i due per niente e non te che hai visto i tutti, e non te che hai visto i questi qua erano sconti? li ho visti qua, però non mi neanche ho fatto caso mica erano i cosi qua, erano i segreti, cazzo blindature ha? ha ben chi la, eretti la che è 12.000 euro e tera 12.000 euro, serio? che cosa ti ho fatto? porco dio ti vada ti vada ti vada ma io vada ma che cazzo che ne so, io forse uno mi fa cadere, non so io vada ma madonna vada ma, ma, ma il bestemme ti salgono automaticamente quando succede tutto ma ma, ma un po' un spuone che ti accetta, ma va in buona ma si ma fa un po' un spuone ma abbiamo scaricato l'ira del signore e... cioè, è di 50 metri cubi e non c'è ancora più non scaricarsi 50 metri cubi e mi richiede a 19 boi a dio ma che fa mica sbagliare con le proporzioni 10.000 euro al colpo si ma mi porta a 4 metri cubi sto cesso qua se si commenti che non basta neanche, che su 4 metri cubi te ne legge 0,1 ma che vero la vagina a mamma che di più che cubi ha fatto gioco intanto non lo fa pipa, fortuna se no un figa anche a capomastro poi accanto ho sberto il pallo della luce buona, tre in caso ci fa 20 anni di video no perchè la, una siccia di terra no oh tabu adesso guarda madonna dio boh che sbroccano bueh 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 questo qua Cristian adesso porto a casa anche a Ruspa insomma qua che sarà cosa ronisativo crepare dai risate che tira tutti i bestemoni che tira ma certo che te fai diventare deficiente una persona tipo bueh io voglio dico caro se non mi fai bene roba e non vedi i tubi eeeh ne ho voglia che hai visto la rete metallica ma che cazzo e non vedi la rete metallica e non vedeee e non vedi i suoi cazzi te paremi argomento cazzi è sempre la ogni volta c'è l'argomento principale di questo team i cazzi dopo che io fai i video e ti vede la colpa viva se la gente la sentisse dice Marco sul sito ti faria paura e non c'è scomunicare altro che vaticano adesso si ho combinato oh che ieri porfi guardando sui tabelloni pubblicitari delle lezione politiche e ieri ah si per la famiglia aiutiamo i vecchi anziani eeehh ma ziocca ma com'è feito fa un movimento che ma 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 non ho però, ho l'energia ma che cazzo devo aspettare? cosa? hai detto finito di scaricare? ma... 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 che cazzo dici? sono io! ma Dio buon! ma perchè i... ma te... ti ho detto? che mi inti io dovrei portare... chissà quattro volte ma perchè ti eri qua prima col camion o no? eh... eh... che cazzo c'è che manca qua? eriti metalliche oh ropa è qua ogni semaforo e ti vedevi qua ogni semaforo che era di morto che andava a sceso ahahah che c'è Dio oh... sono riva ma cominciano che andrà alzheimer che rompe dai po' d'ora, disfiga il carico po' beate pfff Diooo, adesso è perso... omino, corri omino ma su serio? guarda, guarda... infatti vedo... vedo un camion un po' cuspastico dopo vecivano il comune e poi mettassano un lampione e allora gravissate eh... quindi Gnati è tutto un introito no, si scomparse proprio adesso Dio macchina no Dio Dio che cazzo è bello che è successo dopo tre ore Sì, Energy, guarda che è come non sai che chiamo agrao, eh? orca futtana oh, dove far che esito, eh? Energy dove far che esito? no che c'è posto quoddì, ma dove cazzo ti metti tu col gini? ahahah che cazzo città ahahah ahahah dai va via da qua che sono incastrato dentro il bilico perchè è là? oh oh cana è loio e ne diventa il muso che so che vede non mi sono ancora qua però oh ah ho il pistone che mi fraga su un po' ma come si fa? trasportati in sede non fa, non funziona ahahah cosa vede qua il pistone qua? questo è perchè non mi muovo? non si muove sta merda vuol dire se non ti metti in moto il camion? eh ma se sei in moto si super e con questo abbiamo concluso grazie dell'attenzione e arrivederci bella raga